Ciao a tutti, sono Sandro2011, andiamo su Greifenthal nella nostra gilda YouTube Sandro2011 Oggi è lunedì, sono finite le spedizioni, sono finiti i campi e vediamo i risultati Andiamo su Greifenthal Allora, soluzione di gilda terminata, potere gilda 471, la prossima spedizione comincia domani mattina alle 8, fra 15 ore e 5 minuti e 46 secondi Ok, allora, nella spedizione di gilda, beh, sapevamo che eravamo terzi, abbiamo preso questi 471 corone che ci servono per andare avanti nei livelli Anche se il premio che prendiamo invece dai campi è molto più alto Andiamo a vedere subito nei campi, allora, ecco, la tua gilda ha perso 75 punti lega e siamo ancora in lega oro Comunque sia, pur avendo perso 75 punti lega, abbiamo preso il sesto premio, che sono, vedete, 199.000 corone Ne abbiamo preso soltanto 400 di corone nelle spedizioni, quindi questo mostra quant'è importante, quanto sono importanti i campi rispetto alle spedizioni Soprattutto per gilde piccole, perché i premi delle corone che si hanno nelle spedizioni dipendono dal numero dei gildani, dipendono dall'avanzamento in era Mentre questi sono indipendenti, quindi ecco, è importante essere arrivati in oro, sarebbe importante rimanersi o magari arrivare addirittura in platino Poi abbiamo una ricompensa individuale di 48 frammenti di kit di selezione del stato dell'onore Questo è importante, perché il stato dell'onore dà punti forge al giocatore, ma dà anche bene alla gilda Quindi se ce l'avete, se siete arrivati a 200 frammenti, mettetela, aggiornatela Ok, e la situazione della classifica? Beh, ancora la situazione della classifica non si può sapere, perché alle 8 c'è il ricalcolo Adesso sono ancora neanche alle 5, quindi potremmo vederlo più tardi, se le previsioni che avevo fatto ieri sono state indovinate o no, potremmo vederlo soltanto dopo E andiamo a vedere subito i messaggi Buongiorno, ma c'è soltanto i saluti, il video l'ho fatto ieri, questa volta sono stato bravo Classifica gilda, siamo retrocessi, beh un attimo, ancora però non si sa, beh questo livello 22, questa è la previsione per domani Al momento non sappiamo niente, dobbiamo aspettare le 8 per vedere esattamente quello che succede Perché il nuovo, se andiamo nella classifica di gilde Il prestigio che abbiamo indicato è ancora quello di ieri Il livello anche, questa è la situazione di ieri, l'unica cosa che è cambiata è i punti Lega Questi punti Lega che sono diminuiti, sono scesi a 4,88, da questa diminuzione dipenderà il nostro nuovo piazzamento in classifica Però questo succederà alle 8 di sera, quando c'è il ricalcolo, perché alle 8 di sera c'è anche il ricalcolo per le GVG Noi non facciamo GVG, però anche le GVG possono essere rilevanti per la graduatoria Quindi fino a stasera alle 8 non vedremo esattamente la situazione Torniamo nei messaggi, vediamo se c'è ancora qualcosa Redsonico, Sandro ho visto il video, ti hanno chiamato il mio villaggio, grazie ai consigli Cercherò di mettere in pari con l'alto medioevo al più presto Ok Yeya, buonasera Sandro, ho scoperto il tuo video da poco, ho cominciato da capo a giocare a foie Perché notavo che è arrivata l'alto medioevo e rimanevo bloccata Ti scrivi per una recensione riguardo lo scambio punti, non funziona come le catene che spesso grazie No, allora, sullo scambio punti, Yeya, per lo scambio punti c'è proprio un mio video Che si chiama proprio, sbaglio, scambio punti e catene E mette proprio in evidenza perché consiglio lo scambio punti ma non le catene Le catene in realtà favoriscono i giocatori forti e quelli furbi Mentre invece vanno contro i giocatori piccoli e i giocatori onesti o comunque ingenui Che mettono i punti senza farsi troppo calcoli Quindi per me nelle mie gilde non sono mai le catene, non convengono E consiglio a tutti lo scambio punti Fino a quando non si possa fare una chat Arche 90 E allora a quel punto conviene a tutti fare la chat Arche 90 Comunque puoi vedere il video Il 2, c'è Sandro, ho visto l'ultimo video Riguardo a Ressoni, volevo capire la questione di Aquisgrana Prima di costruire la necessità di beni che fanno parte dell'alto medioevo Quindi per l'oggi dovrei soltanto commerciare per mesi e mesi per avere i beni In più dovrei pure spenderci punti forti, rimanere fermo sull'avanzamento Volevo avere una tua risposta più dettagliata Ma in realtà su Aquisgrana si può salire abbastanza rapidamente E' importante Aquisgrana Quindi eventualmente, io non so Eventualmente si possono anche prendere e comprare i beni Io non so come sto io a beni Se ho abbastanza beni che posso darvi una mano Non mi ricordo neanche che beni servono per Aquisgrana Lo vediamo subito sul wiki Foi, wiki, Aquisgrana Allora, servono beni rame, oro, granito, miele e l'abbastro I beni dell'alto medioevo Vediamo quanti ne ho io Eh, ne ho pochi di beni Quindi, quanti ne servivano? Adesso ho chiuso ma Ottanta, ottanta, centosessanta di granito Di fatto non posso aiutarvi Perché se aiutassi uno Poi non potrei più aiutare gli altri A volte questi beni si comprano fuori Con uno scambio punti E comunque, eventualmente Se non uno scambio punti Nel senso, non uno scambio punti Che dicevamo adesso con ieri Uno scambio punti, proprio un acquisto Si trova un giocatore che ne ha molti di questi beni E voi gli mettete dei punti in un grande edificio E lui poi vi dà questi beni in cambio di beni del bronzo Trovare i beni per Aquisgrana non dovrebbe essere difficile Anche pagando pochi punti Forge Insomma, non andare a pagare troppi punti Forge E se no, mettete Zeus per l'intanto E però finché non è un pochino alto Zeus Che vi consente di combattere Non passate di era Perché se no rimanete bloccati Effettivamente per mettere proprio Aquisgrana con i beni vostri Dovete arrivare all'alto medioevo Insomma, troppo avanti Dovete arrivare quasi tutti del ferro Ah no, l'alto medioevo però è l'edà dopo del ferro Quindi diciamo che la tattica può essere questa Mettere Zeus al più presto Portare avanti Zeus E magari quando Zeus sta a livello 10 Passare all'alto medioevo E mettere subito i militari all'alto medioevo E cominciare con Aquisgrana Forse questa può essere la tattica consigliabile Prendiamo i messaggi Qui non ci sono messaggi Questa volta ci sono pochi messaggi Perché mi sono collegato da un giorno all'altro Qui c'è il messaggio ufficiale Che ci dice che parte l'insediamento degli Aztechi Però noi, ognuno di noi Probabilmente sta facendo un altro insediamento A parte l'insediamento degli Aztechi Richiede di aver sbloccato l'età coloniale Che è una tecnologia dell'età coloniale E quindi voi non potete farlo Quindi per il momento diciamo che non ci riguarda Non ci interessa E comunque è bene prima finire l'insediamento dei vichinghi A tutti i livelli successivi In modo da avere lo Yggdrasil Che è un premio molto buono Che dà l'insediamento dei vichinghi Ma va portato al massimo livello Quindi l'insediamento dei vichinghi L'ho fatto 15 volte Vedete se io qui vedo i premi Dopo che ho fatto 15 volte l'insediamento dei vichinghi Avrò avuto l'ultimo aggiornamento del Yggdrasil Che mi consente di portarlo al livello massimo Che se non sbaglio è il livello 9 A livello 9 il Yggdrasil Oltre ad essere graficamente carino Ci dà un 30% di attacco Per l'esercizio d'attacco Forse nelle ere precedenti un pochino meno Ma comunque dà un buon bonus di attacco Da beni casuali I punti forge e così via Quindi insomma Vi consiglio di cercare di portare avanti L'insediamento dei vichinghi Ok Qui mi ha avuto parecchi saccheggi Qui una richiesta di amicizia Ok Sui messaggi avevo finito E alla fine del video che ho fatto ieri Chiedevo se qualcuno di voi Gildani era interessato A partecipare attivamente a qualche video Utilizzando per esempio Discord Qui vedo che nessuno ne parla Magari facciamo un messaggio apposito Un messaggio di Gilda Ah però prendiamo Questo simbolino da un altro messaggio Perché sennò per trovarlo è più complicato No è troppo lungo Poi è venuto minuscolo Allora Chiamiamolo direttamente Discord Discord Se qualcuno è interessato A partecipare A qualche mio video Eventualmente In streaming Utilizzando Discord Si segni qui In sostanza Discord è un programma di chat C'è la chat testuale Ma c'è anche la chat vocale Quindi mentre io faccio il video Si può parlare fra di noi Potete farmi domande Possiamo discutere Di problemi di Gilda Di problemi del gioco Io non ho mai utilizzato Discord nei miei video L'ho utilizzato in altre situazioni Non ho mai fatto streaming Insomma Sarebbe un po' da imparare Imparare io Imparare voi Vedere se può uscire fuori Qualcosa di utile Qui ho scritto C'è un errore di ortografia Eventualmente Ok Quindi se siete interessati Scrivetelo Se non siete interessati Non è un problema Raccogliamo E mettiamo direttamente La produzione Oggi è giorno Un po' di pausa Il giorno qui Mi hanno saccheggiato Il giorno di pausa Per i campi Il giorno di pausa Per le spedizioni Quindi mettete da parte Un po' di truppe Eventualmente Se ne avete in abbondanza Saccheggiate i vicini Qui scegliamo La missione giornaliera Come siamo a medaglie Vediamo quante me ne servono Qui non ne ho molte Me ne servono 130.000 Ne ho 38 Tutto sommato Mi scelgo le medaglie Se vincessi Le 36.000 Solo il 5% Ma insomma Sarebbe una bella cosa Ok Allora Oggi Vi dicevo Il lunedì Quindi domani Partono le spedizioni Partono E per le spedizioni Per sbloccare Dal secondo livello in poi Bisognerà mettere dei beni Dei beni Per ognuno dei gildani Quindi il lunedì È il giorno in cui Si cambia gilda È il giorno in cui Si espellono Le persone inattive Perché le persone inattive Ci causano Una spesa di beni Che non è compensata Dal loro apporto Nelle spedizioni Quindi andiamo a vedere Nella Nella GAP Ma vediamo un attimo Qui però Quanti siamo Siamo 23 Forse quanti eravamo L'altra volta Passo subito A motivarvi Perché l'ultima volta Mi sono reso conto Poi che non l'ho fatto All'inizio E poi mi sono dimenticato Fra l'altro Dovrei motivare Più spesso Anche vicini E amici Perché mi servono Progetti Devo mettere Assolutamente Alcatraz Che poi A distanza di tempo Ci servirà in gilda Per creare Una bella chat ARC90 Quanti Progetti Di ARC ho Eh me ne mancano Ancora parecchini Ho soltanto 4 Me mancano ancora 5 tasselli Certo Finché motivo Non mi vengono fuori Perché essendo ARC del futuro Per avere i progetti Di ARC Devo motivare Giocatori del futuro O meglio Edifici del futuro Quindi dovrei farlo Più avvicini A vicini Che sono proprio Del futuro Come me O a amici Anche di aree Più avanzate Questi 23 punti Li mettiamo su Alcatraz Ok allora Stavo dicendo Dobbiamo eliminare Gli inattivi Andiamo subito Sulla gilda Nell'elenco Dei membri di gilda Il fondatore E i leader Vedono questi Questi pallini Sono blu Quando i giocatori Sono attivi Sono stati attivi Negli ultimi due giorni Per attivi Significa che si siano Anche soltanto collegati Basta che entrano Un attimo E riescono Già E' considerato attivo Questi con il pallino rosso Sono più di una settimana Che non sono attivi E quindi possiamo Spallerli di gilda Sono soltanto un costo Poi c'è una via di metodo Che è il pallino giallo Da due a otto giorni Non abbiamo pallini gialli E quindi eliminiamo Questi giocatori Se poi volete entrare Volete ricominciare a giocare Potete entrare L'unica cosa Che il gioco Non vi fa entrare Prima di una settimana Quindi insomma ci vuole Ci vuole un po' di tempo Però fra una settimana Potete rientrare tranquillamente Allora Via Killer Via Nicoboi Via Carcatoa Mi spiace La gilda diventerà Molto più piccola Però Veramente le persone Che non partecipano Sono un peso Guardia E questi rimasti Sono tutti attivi Siamo rimasti in 17 Ricarichiamo la pagina Perché alcune cose Non vengono aggiornate In particolare La barra dei gildani Sotto non si aggiorna Se non si ricarica la pagina Ecco Qui nella cronologia C'è scritto Che sono stati espulsi Ho spiegato il perché E qui adesso Siamo soltanto in 17 Qui non avevo messo La produzione Ok Beh allora L'insediamento L'ho fatto prima Passato La taverna E gli amici La svuotiamo Le spedizioni E i campi Abbiamo detto Che non ci stanno La graduatoria È ancora presto Bisognerà vederla Oggi Alle 8 Quindi Non c'è molto da fare Vediamo La situazione Truppe Truppe Insomma Un pochino Ne ho Non tantissime È meglio Tutto sommato Lasciarle per domani Che ci saranno Le spedizioni 61 Ma se solo Quelle del futuro Sono molto meno Vedete Quindi sì Penso che Mi fermo Qui c'è un'altra Produzione Che non ho messo E niente Il video di oggi Penso che sia stato Molto breve Non c'è altro da fare Non vi Faccio perdere tempo Mentre motivo Gli amici E chiudiamo qui Vi ricordo di rispondere Al mio messaggio Chi è interessato A partecipare Ai miei video Utilizzando la piattaforma Discord Si può segnare E basta così Ciao a tutti Arrivederci E alla prossima